Gesù è la via aperta davanti a ogni uomo per incontrare Dio, per entrare in relazione e in comunione con Lui e così trovare veramente se stesso. Lo ha sottolineato Papa Francesco incontrando a Santa Marta i membri dell'Opera di Nazareth, associazione internazionale di fedeli impegnata in opere apostoliche, caritative e missionarie. Da questo incontro con il Figlio di Dio spontaneamente scaturisce la gioia che a sua volta diventa testimonianza e apostolato. Papa Benedetto XVI, aggiunto il pontefice nel corso dell'udienza, ci diceva che la Chiesa cresce per attrazione, cioè per la testimonianza e questa è la missionarietà più importante. La missionarietà è andare e testimoniare Gesù.